Monsignor Valentino Monsignor Luigi ha dedicato quasi 55 dei 65 anni di sacerdozio alla parrocchia di San Gaetano, da lui stesso fondata, distinguendosi per la sua dedizione e la sua cordiale ospitalità. I nuovi canonici onorari sono stati così immessi idealmente nel clero della cattedrale, deputato alla celebrazione solenne ed esemplare del culto divino. Grazie!